Spalla anche ginocchio sono i tre distretti oggetto di specifici moduli di approfondimento nel corso del convegno di area vasta a Romagna che si è svolto sabato scorso a Rimini nella sala riunioni multimediale della casa di cura Villa Maria. Spalla anche ginocchio in un approccio integrato per il recupero funzionale del paziente dopo un intervento. I risultati ormai non fanno altro che confermare che Villa Maria è diventato un punto di riferimento per l'ortopedia in area vasta avendo questo po' di relatori che rappresentano ormai il gota della zona per quanto riguarda le tre branche chirurgiche abbiamo voluto fare un po' il punto della situazione per vedere quali sono i benefici di un approccio integrato nella ripresa del paziente dopo un intervento, dopo un infortunio perché i fatti ci stanno dando ragione noi crediamo molto in questo approccio integrato dove confluiscono sia le professionalità del chirurgo ma anche quelle del riabilitatore, del fisioterapista, del fisiatra, dell'internista avere una guarigione dove si tenga anche conto dei protocolli per il dolore dei protocolli di difesa della ferita del sito chirurgico sono tanti aspetti che spesso in molti posti vengono trascurati ma che alla fine tutti insieme concorrono alla buona riuscita di un intervento. Un convegno, dottore, sulla chirurgia e sulla riabilitazione ortopedica avete messo assieme spalla anche ginocchio. Sono tutti distretti anatomici dove è possibile effettuare un intervento di protesi e dove è molto importante che il paziente dopo aver effettuato l'intervento di protesi effettui un'adeguata riabilitazione che può essere effettuata sia a secco sia in ambiente acquatico. È fondamentale questa parola, approccio integrato? Sì, l'approccio integrato tra personale medico, personale fisioterapico, personale infermieristico un po' tutte le figure professionali presenti qua a Villa Maria. In questa maniera i risultati sono effettivamente più soddisfacenti e migliori.